Destinare le risorse risparmiate dai buoni pasto dei propri dipendenti in smart working per finanziare iniziative solidali in favore di chi si trova in difficoltà economica. Ad avanzare la proposta in regione Emilia-Romagna è stato il Movimento 5 Stelle, nel corso della seduta della Commissione Bilancio riunita per affrontare l'emergenza coronavirus. Un'iniziativa che ha visto l'immediata apertura di Paolo Calvano, l'assessore al bilancio della Giunta Bonaccini, che ha riferito di avere già avviato con i sindacati di categoria un confronto per poter decidere come utilizzare queste risorse. È un tesoretto che la regione sta risparmiando e noi chiediamo che queste risorse vengano destinate alle fasce più fragili della nostra popolazione. Da parte dell'assessore c'è stata un'apertura in questo senso che noi naturalmente non possiamo che accogliere favorevolmente. Pare anche che ci sia già in essere un'interlocuzione con i sindacati e che si voglia andare in questa direzione. Quindi l'auspicio è che questa iniziativa possa concretizzarsi il prima possibile, come stanno facendo già alcuni comuni della nostra regione, ma anche enti locali di altre regioni, penso al Comune di Roma con la nostra sindaca Virginia Raggi. Chiediamo anche che ci sia un'opera di sensibilizzazione verso gli enti locali, magari anche attraverso ANCI, e che si possa replicare questa iniziativa sommandola a quelle già intraprese dai comuni. Penso per esempio ai buoni pasto che vengono erogati proprio per dare supporto a tutti quei cittadini che stanno subendo gli effetti negativi di questa emergenza.